Ci troviamo di fronte a un ritorno del profumo del Nazareno, l'abbiamo visto con Lotti, l'abbiamo visto con Minzolini, di un'antan cordiale tra Berlusconi e Renzi che non si è mai spezzato. Anche per questo serve articolo 1, per ridare il giusto peso alle differenze tra destra e sinistra, per evitare che ci sia di nuovo una stagione di grande coalizione.